Eurodesca è la struttura dell'Unione Europea che serve per dare informazioni, orientamento, consulenza ai giovani per fare mobilità per l'apprendimento in tutta Europa ma anche fuori dall'Europa. Informazione, promozione ed orientamento per la mobilità internazionale dei giovani nasce ad Arezzo il centro Eurodesca frutto della collaborazione tra Open Com e l'ufficio scolastico territoriale di Arezzo. Il centro Eurodesca si trova nella sede di Open Com in piazza Giotto 13 però è appunto nostra intenzione di istituzionalizzare il servizio, andare fuori dalla piazza, andare direttamente nelle scuole, parlare con i giovani. I nostri servizi saranno quelli appunto di informazione, di promozione della mobilità, di orientamento dei giovani verso i percorsi formativi che possono fare all'estero ma anche percorsi per lo scambio, scambio giovanile appunto per acquisire le soft skills necessarie per entrare nel mondo del lavoro e poi anche l'attività di europrogettazione. Qui è rivolto ai giovani diciamo in età tra i 16 e i 35 anni quindi una fascia molto ampia, potranno trovare tutta una serie di informazioni sulle opportunità che l'Europa offre, i programmi, i finanziamenti, le capacità di fare mobilità ma serve anche a tutti coloro che lavorano con i giovani, dagli enti pubblici ai privati e a tutti coloro che lavorano anche perché i giovani siano più protagonisti del suo proprio territorio. Eurodesk rappresenta la rete ufficiale del programma europeo Erasmus Plus per le informazioni sui progetti e le iniziative promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani. Noi riteniamo che il valore formativo dell'esperienza Erasmus sia quello di far crescere la consapevolezza nei giovani di essere in una realtà che è di carattere glocale, cioè in realtà la globalizzazione viene vista solo nei suoi aspetti in questo momento negativi. Ma la globalizzazione è anche una funzione di carattere generale, di valorizzazione delle realtà locali, quindi la capacità di riportare all'esterno quelli che sono i propri valori e di acquisire dall'estero, dagli altri soggetti, da altre esperienze, appunto esperienze positive da poter riportare nella propria comunità in modo da farla crescere e di integrare sempre di più. Io credo che siamo nella strada giusta, è quello che richiede il mondo del lavoro, ma richiede il mondo, tra i giovani oramai non hanno frontiere e per farli affrontare anche questo mondo c'è la necessità anche di creare queste condizioni che sono condizioni di studio, di formazione. Grazie. 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 Grazie.